Almeno uscire, ho 45 anni, fin dai conti. Sono chiusa qua dal 2007 e vorrei uscire con la sedia a rotelle, sinceramente. Aurora, disabile al 100%, non può uscire di casa. Gli amici le hanno regalato una sedia a rotelle, ma non può usarla perché nel palazzo Ater in cui vive non c'è l'ascensore. Ieri il suo drammatico appello a Sveglia Trieste e la sua storia che vi abbiamo raccontato ha commosso molti telespettatori. Abbiamo chiesto all'Ater se è possibile fare qualcosa per aiutarla. La risposta è stata rapida, non altrettanto saranno purtroppo i tempi per trovare una soluzione. Ci hanno infatti spiegato che la signora è già inserita nella lista dall'Agenzia Territoriale per un cambio d'appartamento, ma appunto di lista si tratta, è anche piuttosto lunga. Ci sono tante altre persone che attendono di potersi spostare in un alloggio più confortevole e che si trovano in una posizione più alta in graduatoria e quindi i tempi non potranno essere rapidi. Fra l'altro in passato la signora aveva rifiutato alcune possibilità di cambio. Il problema che emergeva dal suo appello di ieri è però l'aggravamento delle sue condizioni di salute negli ultimi anni, tanto che dovrà sottoporsi a un nuovo intervento. E il fatto di essere bloccata a casa è preoccupante anche per la prospettiva della riabilitazione. Adesso io dovrei andare a Udine a fare un altro intervento, però se esco da Udine e poi non posso fare la riabilitazione perché sono di nuovo chiusa qua, è come niente. Il funzionario Atera ha anche promesso di ricontattare direttamente la signora per cercare di trovare insieme una soluzione, sempre e naturalmente nel rispetto di tutte le altre persone che sono in lista per un cambio alloggio. Grazie.